Ieri sera il Ponte Flaiano si è colorato d'oro per la campagna di sensibilizzazione sul cancro infantile Accendi d'oro, accendi la speranza, promossa da Fiagop e alla quale è aderito anche l'Agbe, l'Associazione Genitori Bambini Emopatici di Pescara. Grazie alla collaborazione con il Comune Adriatico, il ponte è stato illuminato color oro in segno di sostegno ai bambini e adolescenti affetti da leucemie e tumori solidi. Alla campagna partecipa anche il Comune di Spoltore, che come lo scorso anno metterà a disposizione il convento cinquecentesco di San Panfilo facendoli illuminare d'oro domani sera. La campagna Accendi d'oro, accendi la speranza, farà risplendere di luce dorata in tutta Italia templi, chiese, ponti, fontane e castelli per richiamare l'attenzione delle istituzioni e dell'opinione pubblica sui problemi e le necessità dell'oncoematologia pediatrica. Ogni giorno ci sono quasi 700 nuovi casi di cancro infantile in tutto il mondo, in Europa 35.000 casi ogni anno, in Italia circa 2.400, di cui guarisce l'80%. L'Agbe, nei suoi 21 anni di attività, ha sostenuto e dato accoglienza gratuita a famiglie per un totale di 46.600 presenze e offerto trasporto gratuito percorrendo oltre 450.000 chilometri fra Abruzzo, Molise, Emilia Romagna e Lazio. La Fiagop invita tutte le cittadine e i cittadini a partecipare alle cerimonie di illuminazione dei monumenti e ad indossare un nastrino dorato, simbolo dell'oncoematologia pediatrica, con cui scattare una foto da condividere sui social, scegliendo uno degli hashtag dedicati all'iniziativa.